Monta la protesta sull'orario di chiusura dei locali notturni a Gela, prevista per le 2 della notte, quanto prevede una vecchia ordinanza firmata nel 2003 dall'allora sindaco Rosario Crocetta. Il gruppo consigliare del PD, guidato dal capogruppo Enzo Cirignotta, a tal proposito ha inviato una nota al sindaco domenico messinese, chiedendo delle modifiche rilevando che quell'ordinanza è stata superata dal decreto legge che nel 2011 ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, consentendo a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura senza più vincoli di chiusura festiva o infrasettimanale nei limiti giornalieri di apertura. L'ordinanza rileva il PD risulta essere anacronistica in quanto penalizza i titolari degli esercizi commerciali costretti a chiudere alle 2, ma scoraggia anche l'apertura di nuove attività commerciali e dal contempo spinge i giovani amanti della movita notturna a spostarsi in altre città limitrofe esponendo gli stessi ai rischi derivanti da possibili incidenti stradali. La liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi potrebbe comportare benefici per le attività esistenti, l'apertura di nuove attività commerciali e limitare gli spostamenti in altre città limitrofe da parte dei giovani amanti della movita notturna. Il PD chiede dunque al sindaco di revocare l'ordinanza sindacale emessa nel 2003 da Crocetta ed emetterne una nuova che consenta ai titolari dei pubblici esercizi di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura.